foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione! Abbiamo superato, sarà superato quell'obiettivo, arrivando a 46.000 like, qua c'è ragà, qualcosa di incredibile, e quindi ragazzuoli, guardate qua, per rispettare i nostri patti, sono andato a prendere proprio lui, Inzaki Legend, signori, eccolo qua, messo al posto di El Sharawi, Inzaki Legend, pagato 100.000 crediti, c'è ragazzuoli, veramente qualcosa di incredibile, stiamo creando una squadra veramente assurda, ragazzuoli, penso che le leggende italiane ne rimangono ancora ben poche, se non sbaglio c'è Zola e Baresi, se non sbaglio, di leggende, quindi sono due, vediamo un attimino come andare a cambiare poi i nostri giocatori, penso che l'unico che è rimasto per cambiare è Francesco Dotti, dobbiamo andarlo assolutamente a togliere, visto che El Sharawi lo abbiamo tolto, ragazzuoli, quindi io veramente non so, cioè, io sono sballordito da questa squadra, con 5 leggende veramente, 6 leggende veramente assurde, ragazzi, è qualcosa di incredibile, ragazzi, mi raccomando, un bel like per questo Inzaki Legend, ovviamente cerchiamo di arrivare di nuovo a 35.000 like per questo grandissimo arrivo di Inzaki, e ovviamente adesso andremo a giocare la partita e vediamo un attimino quello che dobbiamo fare, e sinceramente ragazzi, non so quanti episodi ancora mancheranno per questo Top Italian Team, perché alla fine comunque mi è rimasto da cambiare solamente Francesco Dotti, però dobbiamo vedere appunto quante altre leggende, credo che ce ne sono due, quindi ancora ce la possiamo fare a fare qualche altro episodio, vediamo un attimino chi andare a cambiare, ormai, raga, oggi penso che se riusciamo andremo a cambiare anche Dotti, vediamo un attimino, ovviamente bisogna vedere anche da voi, raga, se siete in vena di sfide, di spistacchio, vabbè, andiamo a giocarsela contro il pistacchio qua, vediamo un po' che squadra ci mette a confronto, per me si mette paura contro la mia, raga, guardando la mia per me sviene, vediamo un attimino la sua, beh, ovviamente è un'ottima squadra ragazzi, tra un po' di Serie A e un po' di Bundesliga, quindi non è male, Io li sento ridere, raga, per me si sono messi paura dalla squadra mia, sicuramente, li sento ridere un casino ragazzi, secondo me si sono messi paura dalla mia squadra, dai, iniziamo immediatamente, cerchiamo di andare a fare più punti possibili, vediamo un attimino quello che riusciamo a fare, raga, ovviamente, eh, oh, che so sti buchi, che so sti buchi, che cazzo sono sti buchi in difesa, porca puttana, andiamo a battere uno con Totti, vediamo un po' come ci comportiamo, bam, oh, mamma mia, mamma mia che spettacolo, dai per Totti, va bene, oh, no, ma do, stiamo calmi, non ci allarmiamo, calcio d'ango signori, la diamo al centro, ci proviamo, anzi, la diamo proprio fuori, Totti, l'apre perfettamente per Marchesio, ancora Marchesio, ancora Marchesio, mamma mia per un pelo, dai, dai, ieri, dai, ieri, dai, ieri, mamma mia, ragazzi, mamma mia, questo potrebbe valere anche come skill goal, per capire se ha smarcao tutta la squadra, però, diciamo che va bene così, dai, 1 a 0, sì, 1 a 0, magari, 1 pari, bello, ancora Franceschino, mamma mia, attenzione, attenzione, mamma mia, signori, eccolo qui, proprio lui, Inzaki, Pippo, Inzaki, signori, un gol dalla distanza fenomenale, va a cambiare le sorti della partita, grande errore da parte dell'avversario, ma Pippo Inzaki, non sbaglia, grande, grande cavolo, dai, Pippo, eccolo qua, eccolo qua, ecco, oh, non lo fa mai sto stronzo, non lo fa mai, non lo fa mai, eh, traversa, non lo fa mai, regà, non lo fa mai, guardalo il nano, guardalo, che bestione, che bestione, che bestione, c'è proprio lui, Franceschino Totti, signori, che non sarà il fecero in campo, ma purtroppo, mi sa che lo dobbiamo andare a togliere, in un secondo a questa partita, la dobbiamo vedere a fine video, signori, si vedrà tutto a fine video, mamma mia, Franceschino, guarda ancora Cannavaro, con tutto che è stato munito, continua a fare le sue scivolate tatticissime, e ancora Bobo, ancora Bobo va, eccolo Inzaki, Pippetto Inzaki, di bello da casa, ancora Gattuso, che prova a darlo, ragazzi, a sentire i nomi, solo a sentire i nomi, mi so sentire male, Pippetto Inzaki, Pippetto, e ci sta Bobo Vieri, signori, grande gol di Bobo Vieri, che purtroppo non riesco a fargli fare questo skill goal del cazzo, c'è la doppietta di Vieri, ma non abbasta, non basta, ouch, facciamo uscire il portiere, grandissimo Buffon, mi prude la spalla, aiuto, dai, 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 dai che è finita, dai che è finita, è finita, oh, madonna mia, madonna mia, ragazzoli, prima partita vinta da Joker, signori, siamo parte di male, ma subitissimo abbiamo messo le cose come stanno, che avrai 9.5, ragazzi, ma quando vado a cambiare, ma quando vado a cambiare a Totti, ci sta l'assist, pure no, ci sta il punto della vittoria solamente, ragazzoli, solamente il punto della vittoria, ci siamo ragazzi, seconda partita per noi, vediamo un attimo che squadra ci metta a confronto, sicuramente lui pure è svenuto vedendo la nostra, speriamo di fare qualche altro punto, ragazzoli, quindi alla fine di questo video, ovviamente, diremo la nostra sfida, ovviamente, vediamo se poi voi siete d'accordo con me, si parte, ragazzi, si parte subito con Bobo ieri, ancora Bobo, ancora Bobo, e prova a partire Bobo, ma viene già fermato, attenzione ieri, ieri dalla distanza, mamma mia, pensavo fosse gole, ragazzi, ancora Bobo, ancora Bobo la dal centro, oddio, ragazzi, ci vuole stare un punto dell'assist assurdo, se putacaso segnava, ancora Marchisio, ancora Marchisio, la da Penzaki, ancora Pippetto, Pippetto Inzaki, tutto tranquillo, con molta nonchialanza, va a segnare un grandissimo gol, e trova il suo obiettivo in tutte e due le partite, grande, Pippetto Inzaki, fermiamo la parte, dove va che c'è il nano, guarda il nano, ah 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 di ferma, oh nano, fermalo, va bene, va bene, c'è Maldini, ah ma mia che apertura, dai vieri, dai vieri, marca puttana, ci stava il gol della distanza il pallonetto, mannaggia la miseria, niente putti extra per noi, bulla, 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 e ci tira, niente, non ci tira, dai che buona, eccola, questa è buona sì, Bobo, ma nonna mia c'era un'altra volta che ho dalla distanza, non ho visto che stavo scendo fuori dai pali, non so che facevo il pallonetto che facevo, non ho proprio visto raga, ancora per il nano, 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 ancora c'era, oddio con tanto di di aviazione, oddio, oh madonna mia, comunque l'abbonamento è immenso raga, sti cavolo dei pali, dai così che è buona per Bobo, vai Bobo, vai Bobo, dai e Bobo, guarda che si è cagato, comunque l'altra volta un palo, basta, guarda qui cattuso, non so perché catturato sta ciavattato, io ho detto di gran dritta, tiravo a sinistra, vabbè non fa niente, però non capisco un altro palo, raga, io la prossima serie che faccio è, a chi ha per palo challenge, porco 2, e faccio tutti, dai che buona, dai che buona, Franceschino, Franceschino, meno male, meno male che c'è messa lui, meno male che non ha sbagliato, se c'è mancato le piavano un'altra traversa un palo, raga, faccio delle grazie risate proprio, 2 a 0, buono così, dai, vanno più raga, vanno più, oddio ragazzi, fino a mo' l'ho massacrato, ho preso pali, traverse, lisci, palle fuori, palle che intrapare, questo tu diri, con tu diri hai fatto un palo, in un altro palo mi fa gol, e poi mi ho fatto il golletto, e vabbè, dai ragazzi siamo al novantesimo, questo comunque mamma merda, come pensate che i tagli con tu fa perché sto cacca cazzo, mi fa vedere tutte le presentazioni del gioco, mamma mia, ma una diarrea te le prende, dai siamo al novantesimo, più per di tempo qua, adesso è meglio per me, eh, fa come te pare, dai che hai perso, hai perso, hai perso, eh beh, a chi cazzo ho dato questa, dai, mamma mia che cacca cazzo di sta gente, oh, erpad, esplode in mano, gli analogici, entra a bucio del culo, ti devono entravo, guarda che palle sta gente, mamma mia quanto tempo ti fa perde, oh, sei contento, bravo, bravo imbecille, mamma mia, la demenza proprio, la demenza proprio, eh, bravo, hai perso, va a dormire, va, va a dormire, oh, mamma mia ragazzi, abbiamo fatto a finire sta partita, allora, peggiora in campo, ovviamente, è tutto tranne che Totti, però, c'è qualche assist, no, ci prendiamo il punto della vittoria nuovamente e ragazzi, rimanete a cambiare Totti, allora facciamo così, voglio cambiare Totti, abbiamo un punto di prima e un punto di adesso che sono solamente i punti delle vittorie, ragazzi, io vi voglio fare questa sfida, poi vediamo se eventualmente non ci arriviamo, andremo a mettere un Toz invece che la leggenda, io ragazzi vi vado a vedere qua un attimo sulle leggende, vediamo un attimino che leggende sono rimaste, qui mettiamo speciale, campionato, ci mettiamo, no, scusate, mettiamo Italia, mettiamo Italia e vediamo un attimino chi c'è rimasto da apprendere, allora in Zaki ce l'abbiamo, allora c'è Zola ragazzi, al prezzo di 200.000 crediti che possiamo mettere tranquillamente al posto di Totti e semmai lo possiamo mettere anche a T, o vogliamo se no lasciamo C.O.C che va benissimo, quindi c'è Zola o se no abbiamo anche Baresi, ragazzi, però Baresi è un difensore, quindi non è che ci interessa tanto, allora facciamo così ragazzi, se questo video raggiunge di nuovo i 40.000 like andiamo a prendere Zola e lo mettiamo C.O.C e quindi sarebbe veramente il top, perché ragazzi abbiamo Baresi, Baresi è inutile andare a prendere visto che i difensori li abbiamo tutti, quindi è inutile prendere anche Baresi, se riusciamo a arrivare a 40.000 like prendo Zola e andiamo a chiudere queste leggende visto che sono terminate le leggende italiane e poi quindi praticamente la serie è quasi finita e eventualmente ci andiamo a fare il torneo con questa squadra e possiamo chiudere questa stagione del top italian team. Ragazzi vediamo un po' se ci riusciamo, 40.000 like prendiamo Zola, C.O.C e lo andiamo a mettere a posto di Totti, altrimenti andiamo a prendere un Totti se non raggiungiamo i 40.000 like. Io ragazzi invito a lasciare un'attività su, commentate e condividete questo video, passate nella pagia Facebook, Instagram, sempre in descrizione. Ci vediamo domani con i prossimi 14-19, non mancate, ciao signori! Ciao!